Se crediamo veramente in quello che è il futuro e non possiamo pensare che tutto il metallo prezioso ci serve conteneremo all'infinito estrato dalla Terra e dal pianeta, abbiamo sempre cercato di immaginarsi come poter prendere quel metallo e usare il nostro nuovo per fare qualcosa di diverso rispetto a quello che andava fatto. Sarà un impianto all'avanguardia in campo mondiale che consentirà di recuperare materiali preziosi da ERAE i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quello che sorgerà all'interno del sito di Podererota dove fino a qualche mese fa era attiva la discarica. L'impianto è stato recentemente autorizzato dalla regione toscana, un mese fa, e abbiamo cominciato subito i lavori e siamo pronti a partire nel mese di settembre. Sarà il primo impianto al mondo, un impianto che ha due sezioni tecnologiche, una di smontaggio e l'altra di recupero dei metalli preziosi con un impatto ambientale minimo in confronto con le altre tecnologie oggi in uso. Dove c'era un sito di discarica, domani ci sarà un impianto fortemente innovativo e questo significa prendersi cura anche del territorio dove siamo e soprattutto non abbandolarlo, rigenerarlo e creare nuova vita su questo. L'impianto verrà realizzato nel corso del 2024 a terra nuova Bracciolini e sarà in grado di trattare sino a 315 tonnellate all'anno di schede elettroniche. Il vero valore aggiunto della filiera è tenere qui il valore aggiunto finale che ora andava disperso dove molte aziende comunque comprano e vendono RAI e poi comunque il trattamento finale viene fatto in Nord Europa che veramente la sfida è portare in ogni piccolo centro comunità abitata il trattamento dei RAI di quella comunità. Sarà realizzato all'interno di un capannone industriale di circa 2500 metri quadrati con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro sarà poi allestito anche un laboratorio chimico di analisi. Entrare nella filosofia che lo scarto diventa un valore e diventa un elemento anche produttivo del nostro territorio è sicuramente molto significativo. Io ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa nuova filosofia e visuale che tra l'altro verrà delinata concretamente entro pochi mesi e quindi potremo vedere fin da subito i risultati.